E' un problema, ho capito, ma è un problema quanto accaduto oggi in campagna. Lei dice una cosa e poi otto consiglieri DEM su nove fanno il contrario. Nel Partito Democratico le regole valgono per tutti. Se prima funzionava diversamente, ora ci si abituerà che è così. Il Partito Democratico è contrario al terzo mandato. E comunque, se posso, nessuno sta parlando della manovra in questo paese. La manovra è una manovra recessiva in cui tagliano la sanità pubblica anche se dicono il contrario. Tagliano il sociale, 7 miliardi in meno ai comuni, 6 mila insegnanti in meno alla scuola pubblica. Non c'è una misura di investimento per la crescita del paese. E nel momento di maggiore crisi del settore automotive in tutta Europa e in Italia, il governo Meloni ha la bella trovata di tagliare l'80% dei fondi con 4,6 miliardi di euro. Guardate, questo vuol dire portare il paese alla recessione. Il Partito Democratico si batterà duramente per difendere le politiche industriali che servono al paese. La sanità pubblica, la scuola pubblica, il lavoro di qualità. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti. Segretario, che mondo sarebbe se dovesse vincere Trump? Grazie a tutti.